Di malattie delle valvole cardiache si parla poco. Solo 5 italiani su 100 conoscono questa malattia valvolare, una delle forme più comuni che causano il restringimento della valvola aortica e soltanto 2 persone su 100 ritengono siano malattie di cui preoccuparsi, nonostante la loro prognosi sfavorevole se non curate. Se ne è parlato in una conferenza stampa promossa da Cuore Italia e svoltasi presto il Ministero della Salute. All'evento hanno partecipato Pierpaolo Sileri, Vice Ministro della Salute, Roberto Messina, Presidente di Cuore Italia, Alessandro Boccanelli, Presidente della Società Italiana di Cardiologia Geriatrica, Gennaro Santoro, Primario Cardiologo Interventista, Docente della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Pierluigi Stefano, Direttore di Cardiochirurgia all'Ospedale Careggi di Firenze, Antonio Maggi, Segretario Generale Sumai Assoprof, Silvio Festinese, Cardiologo e Consigliere Sumai Assoprof e Salvatore Cauchi ha detto stampa SNAMI nazionale. Le malattie delle valvole cardiache riguardano oltre un milione di italiani, in particolar modo la fascia di popolazione con più di 65 anni di età. Cuore Italia ha promosso la settimana europea per le malattie delle valvole cardiache per aumentare la conoscenza e la consapevolezza di queste malattie. Ascolta il mio cuore, questo è il messaggio rivolto ai medici e più in generale a tutti per sensibilizzare sulle malattie delle valvole cardiache. E con questo messaggio, fra le iniziative principali messe in atto, si è svolto un vero e proprio flash mob, la camminata per il cuore. Per il cuore, dal cuore di Roma, quest'anno l'iniziativa ha avuto infatti come suggestiva cornice l'isola tiberina, dove un gruppo di anziani over 65 ha pacificamente manifestato per dare evidenza a un argomento troppo poco considerato, nonostante il tuo impatto.